Presidente, quali tematiche avete portato al Presidente Errani? Sono le nostre istanze che sono quelle della grande preoccupazione di avere allentato il patto di stabilità, di avere più ruolo come autonomia e competenze per le ragioni e sicuramente il grande tema della sanità. In generale dico che il Veneto ha 1 miliardo e 300 milioni di euro bloccati dal patto di stabilità e abbiamo la necessità di pagare i nostri fornitori. Il tempo medio di pagamento oggi delle fatture è di 429 giorni a causa di una legge ingiusta approvata a livello nazionale che si chiama patto di stabilità. La disoccupazione è ai livelli storici in Veneto e soprattutto le piccole e medie imprese soffrono per la concorrenza e la carinzia? Noi abbiamo perso 700 imprese anche quest'anno con un controvalore di 13 mila dipendenti, abbiamo una disoccupazione con 170 mila disoccupati, diciamo che questo è il grande problema che stiamo vivendo adesso.